Sire, ho datarvi delle notizie. Allora, che tipo di notizie so? Spero che non siano brutte, lo sai che non le sopporto. La giornata è cominciata così bene, ho dormito che era un sogno, so annato bene di corpo, non voglio sentire brutte notizie. Allora, che tipo di notizie so? Vengono ad essere sinceri, sono molto brutte. Lo sapevo, lo sapevo che erano brutte. Aspetta un momento, ho un'idea. Perché non provi a darmi le brutte notizie in modo gradevole? Forse sembreranno meno brutte. Le brutte notizie in modo gradevole? Sì, sì, posso farlo, le brutte notizie in un modo gradevole, sì. Ecco dunque. Sentite che cosa mi è successo? Mi sono imbattuto in Robin Di Loxley, è tornato dalle crociate. Sapete, vi odia e ama vostro fratello Riccardo. Vi vuole vedere impiccato. Siamo in un mare di guai. Ma che sei scemo? Che ci avrai da ridere? E' una notizia terribile. Beh, voi mi avevate... Io pensavo, stavo solo cercando di farvi sorridere. Ma hai fatto piangere? È un problema complesso, Sire, non sarà facile risolverlo. E c'hai ragione. Che se può fare? 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 Grazie a tutti